Good morning Milano, buongiorno a tutte e buongiorno a tutti, 7.07, giovedì 7 marzo, ben ritrovati qui sulle frequenze digitali, FM e anche i bit che scorrono sulla rete di Crystal Radio, che trovate veramente ovunque nella vostra autoradio con la Plus e con l'FM, ma anche appunto nel vostro cellulare con le app per Android e iOS, ma potete anche trovarlo scrivendoci dei messaggi, dei Whatsapp, poi dopo vi do il numero 3317853555, eccolo qua, sapete perché ho detto dopo, perché si è spento il monitor da cui ho il numero, quindi adesso, però me lo sono ricordato a memoria, 3317853555, finalmente ho imparato qualcosa a memoria, ci ho messo un anno e mezzo praticamente a imparare il numero, ma l'ho imparato, 3317853555, adesso lo dirò tutto il giorno, tutta la mattina, lo dirò a chiunque incontro per strada, dirò 3317853555, comunque voi potete scriverci, dirci quello che state facendo, quello che volete fare oggi, oggi non piove, questa è la notizia, prima di tutto, ma appunto come sapete ve l'ho già detto, da domani dovrebbe ricominciare, ma soprattutto sabato e domenica pioggia, quindi non fate grandi progetti per il weekend se sono l'aperto, state a chiuso, così almeno siete più tranquilli. Comunque adesso si inizia, si parte con un po' di musica e poi si va avanti tutta la mattinata con anche tantissimi e grandissimi ospiti, oggi ne abbiamo veramente tanti, oggi parliamo tantissimo tantissimo di teatro, vi avverto, ve lo dico, però si ride anche tanto, a cosa avremo nella seconda parte? Ed era Marco Mengoni che ci dà il via, meno male che ho detto che questa mattina si ride tutto, insomma adesso con Mengoni non è che proviamo riso tanto, devo dire la verità, e vabbè 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 dai andiamo avanti, ci rifacciamo sicuramente nella seconda parte di trasmissione, ve lo dico già, ma intanto grazie a chi ci sta scrivendo i whatsapp in questo momento, arriva il whatsapp di Alberto che ci dice buongiorno Fabio, buongiorno ascoltatori di Crystal Radio Milano, buongiorno a te Alberto, oggi giornata fuori Milano ascoltando Crystal Radio in Dub Plus, ebbene sì perché ve l'ho detto anche prima, se siete fuori Milano e quindi dove non raggiungiamo con l'FM, c'è invece il Dub Plus, che è sempre comunque nelle vostre automobili, c'è un pulsantino sull'autoradio, diciamo degli ultimi 5 anni, quasi tutte, hanno questo sintonizzatore, sicuramente se avete comprato la macchina negli ultimi 2 anni, quello è poco ma sicuro, se deve ancora arrivarvi, sicuramente ci sarà il Dub Plus, magari avete ordinato la macchina e vi arriva la settimana prossima, mio padre, vi porto un esempio, mio padre ha ordinato l'auto nuova, ha già la targa e tutto quanto, ma l'aspettiamo da quasi tre settimane che aspetta, è indogana per sdoganamento, così dicono, dalla casa madre, comunque vedremo, sta di fatto che appunto c'è il Dub Plus, semplicissimo, cercate Crystal Radio, andate in ordine alfabetico, quindi sulla K, e ci trovate, e tutte le mattine dalle 7 alle 9, trovate me che vi racconto un po' quello che succede in città, mi raccomando questa cosa non fatela mentre siete in giro, perché sappiamo quanto la città è piena di buche in questo momento, e quindi mi raccomando, occhi ben saldi sulla strada e non sui pulsantini dell'autoradio mentre siete in giro. Oggi è, abbiamo detto, il 7 di marzo, ed è una giornata importante per Milano, perché nel 1785, ben 239 anni fa, nasceva oggi Alessandro Manzoni, ebbene sì, proprio quello lì, quello che avete odiato tutti quanti a scuola perché dovete leggere e studiare, ecco, quello lì, quello lì, quello lì, poi ovviamente dipende cosa avete fatto, io ho fatto il tecnico e comunque ce l'hanno fatto fare lo stesso, quindi immagino che abbia fatto il classico così, magari poi c'è qualcuno che l'ha anche amato, nel senso, non è che siete tutte delle capre ignoranti come me, quindi qualcuno magari andava anche volentieri a scuola, andava anche volentieri avanti nelle letture del Manzoni, di cui io non so praticamente nulla se non che ha scritto i professi sposi, poi altro non ho idea di cosa abbia fatto nella vita sua, so che è stato un po' sfortunato, nel senso che ha fatto una brutta morte, nel senso che è stato un po' sfortunatello, nel senso che lui era in piazza San Fedele, è inciampato, davvero non sto scherzando, è inciampato sui gradini della chiesa, è caduto, ha picchiato la testa, però ha detto, no, niente, mi sono... fa un po' male, ma fa niente, vado a casa, e niente, è arrivato a casa, è crollato terra, è morto lì, eh sì, non è carina come cosa, però insomma sfortunatello il Manzoni in quella circostanza, è l'unica cosa che non è vera, vedete che ci sono delle cose, perché sono andato in gita a casa del Manzoni nei tempi che furono, fu l'unica cosa che rimase nella mia testa, quindi vedete che il true crime funzionava già all'epoca, le cose morbose funzionavano già all'epoca, di tutta la vita del Manzoni, di tutta l'opera del Manzoni, mi ricordo solo e esclusivamente il suo ultimo giorno, tra parentesi, piazza San Fedele, in cui c'è la sua statua che guarda i gradini della chiesa, non so, ma potevano farglielo anche in un altro posto, ma soprattutto, ma quello che mi è sempre piaciuto, è che ha il libro dei promessi sposi dietro la schiena, quasi a nascondolo, quindi come dire, dai scusate, l'ho scritto, non volevo farvelo studiare tutto, però è andata così, mi spiace. Noi invece andiamo a collegarci con il traffico, o meglio, andiamo a collegarci con Lucio Verde, che ci dà la situazione del traffico, in diretta. Marrakesh, Neon Leali, insieme ad Elisa, Marrakesh che fa parte, ha fatto parte del cast di quella serie, di cui vi sto parlando da un po' di settimane, che è Nuova Scena, non ho ancora visto il finale, non spoilero, comunque anche, io sono alla semifinale in questo momento, sto guardando, non spoilero chi sarà e chi ha vinto, chi sono i finalisti, qualcuno non l'ha ancora vista, quindi non spoilero niente, e vi dico solo che appunto c'è anche Marrakesh, tra i suoi componenti, tra i suoi componenti del cast, più o meno, cioè fa dei featuring, insieme a questi ragazzi e ragazze della nuova scena, Marrakesh che, vabbè, attraverso non sapevo questa cosa, andando a cercare un po' di notizie sul Marra, si chiama Fabio, non sapevo, non mi ricordavo, in realtà adesso poi quando l'ho letto ho detto, ah è vero, si chiama Fabio lui, quindi pensa, abbiamo anche in comune questa cosa, oltre al fatto di essere entrambi di Milano, che ripeto, nella serie non esce secondo me come dovrebbe uscire, sono un po' polemico su questa cosa, nel senso che ne esce molto molto bene Napoli, con tutte le sue contraddizioni, con tutti i suoi movimenti, con tutto anche un'appartenenza napoletana a Napoli, dei cantanti, dei trapper, dei rapper napoletani, ne esce molto bene anche Roma, nel senso che si va a scovare, nelle pieghe di quella città, una romanità che rivendica il fatto di essere Roma, e di essere il rap romano, che trappamente arriva da una grandissima storia, una grandissima stirpe di rapper, che la ben rappresentano, tra cui anche un Fabi Fibra, che non è di Roma, anzi, lui nasce nelle Marche, poi crescerà musicalmente, infine, a Milano, ma nel mente, scusate, nel suo percorso, in mezzo, passa per Roma, e proprio Roma lui va a rappresentare, in questa serie su Netflix, Joliet invece, rappresenta la musica napoletana, e a Milano abbiamo Rose Villain, che va benissimo, nel senso anzi, molto brava, e rappresenta molto bene, anche un certo tipo, di attitude, diciamo così, internazionale, che c'è nella nostra città, peccato, secondo me, che si è persa l'occasione, di portare sul palco, tutta quella scena underground, che ad esempio, qua su Crystal Radio, potete anche ascoltare, con Voci di Periferia, che è un grandissimo programma, che va in onda appunto, qui su Crystal Radio, che racconta, le voci, che arrivano dalla periferia, che arrivano dai ragazzi, che vivono, quelle zone, dove nasce, il rap milanese, la cosa che mi ha fatto, un po' specie, è proprio che questa serie, la sto guardando, mentre a Milano, c'è in scena, Jesus Christ Superstar, al Sistina Shapitò, con Frankie Energy, che dice invece, Milano è la culla del rap, Milano può dare tantissimo al rap, e in questa serie, devo dire, che ahimè, non esce così tanto, di Milano, si vedono solo i grattacieli, si vedono i locali, in cui poi verrà fatta, viene fatta anche la fase finale, perché viene fatta al Fabric, qua a Milano, ma ecco, quella solita Milano, che insomma, siamo un po' stanchi, di vedere raccontata, solo come una nuova Milano da bere, io così la voglio definire, è la nuova Milano da bere, la Milano dei lustrini, la Milano dei grattacieli, la Milano delle riflessioni, delle luci, sui grattacieli, fatti di specchi, e di vetri, dateci un'occhiata, perché è interessante, comunque come serie, viene fuori anche tutto un nuovo mondo, appunto, la nuova scena, che sta, e cavalcherà sicuramente, le scene, nei prossimi, nei prossimi mesi, nei prossimi anni, tra di loro, c'è anche, ve l'ho detto prima, Fabi Fibra, ma c'è stata anche Madame, che ha fatto un featuring, con un artista, proprio nelle zone, nella serie, delle semifinali, e allora andiamo a ascoltarci, proprio una canzone, che mettono insieme, Madame, e Fabi Fibra, sto parlando, di il mio amico, appunto, di Madame, con Fabi Fibra, alle 7 e 24 minuti, Crystal Radio, Good Morning Milano, Love Dies Young, Foo Fighters, 7 e 33 minuti, vogliamo leggere, qualche notizia o no, perché è tutta la mattina, che vi dico cose, mie di pancia, quindi forse, sarebbe meglio, leggere qualche notizia, e le iniziamo, visto che oggi, è il compleanno, del Manzoni, no, non Giovanni Manzoni, che salutami, come io, no, di Alessandro Manzoni, oggi è il compleanno, di Alessandro Manzoni, e allora andiamo a leggere un po', di notizie sulle scuole, sapete che c'è questa occupazione a Staffetta, il liceo Parini ha chiuso, ha finito l'occupazione, andiamo a leggere da Corriere della Sera Milano, liceo Parini, finita l'occupazione dopo un'assemblea tra studenti, scuola ripulita, nessun danno, mi piace che mai la notizia è quella, come se tutte le altre volte ci fossero stati chissà quanti danni, è successo forse una volta sola, in tutte queste occupazioni, quindi anche lì, l'associazione presidi attacca sala, legittimazione del bullismo politico delle occupazioni, sciopero invece al Tenca, che adesso prendiamo a leggere, l'Unione Studenti comunque annuncia anche nuove occupazioni, si è conclusa quindi mercoledì pomeriggio, l'occupazione del liceo Parini, dopo aver passato la notte nelle aule, e al mattino, l'ultima assemblea plenaria, i ragazzi hanno ripulito i locali del piano terra, dove si erano tenuti le attività autogestite, e sono tornati tranquillamente a casa, gli alunni della classe quinta sono invece andati a scuola, ricordiamo, perché hanno fatto le prove in valsi, che erano obbligatorie, in tutta Italia nello stesso giorno, e fa in vista della maturità, e quindi tutto bene al Parini, invece al Tenca, gli studenti occupano, perché? Questo qui è il titolo di Repubblica Milano, poi, piccato che, allora è molto complicato dare notizie sugli studenti, perché uno, la mattina a quest'ora non ci sono, perché sono a scuola anche se occupano, quindi è complicato, due non è, sono quasi sempre minorenni, quindi non è comunque facilissimo, tre non è che abbiano dei numeri di cellulare, uffici stampa, cosa del genere, quindi non è, mi spiace a volte non riuscire a intercettarli, per sentire meglio cosa avrebbero da dire, su certe situazioni, tipo questo titolo, gli studenti occupano, perché? L'aula non ha le tende, non vediamo la lavagna, allora adesso va bene tutto, uno, io non credo che avrei mai occupato niente, perché non riuscivo a seguire una lezione, proprio guardate, era l'ultimo dei miei problemi quando andavo a scuola, seconda cosa, mi sembra un po' così, troppo qualunquista, troppo semplicistico, scusate, come riassunto, e comunque il preside risponde, dice, con finestre alte 4 metri, 4 metri, serve una ditta per montarle, sì, anche con finestre alte 1 metro, non è che poi in natura, comunque, succede al liceo Tenka, dice Repubblica, dove gli studenti del collettivo autonomo, hanno protestato con fumogeni e striscioni, occupando il cortile, poi, ed ecco forse qual è una delle cause, dell'occupazione, della protesta, critiche anche per i costi troppo alti, di materiale scolastico e gite, attenzione, sembra una stupidata, ma allora, il materiale scolastico è veramente alto, sappiamo che la scuola in sé, non può fare niente, se volendo potremmo inventare delle convenzioni, ad esempio, cioè facciamo convenzioni con tutto, perché non possiamo fare convenzioni per avere del materiale scolastico, punto e virgola, anzi, punto di domanda, ma soprattutto quello dell'Egitte, che sembra una stupidata, ma in realtà è uno dei momenti più discriminanti e discriminatori dell'anno scolastico, perché lì si divide, ahimè lo dico proprio terra a terra, si dividono gli studenti tra ricchi e poveri, così, si decide chi può andare e chi non può andare, semplicemente in base a un prezzo, che poi, anche lì non capisco perché ogni anno, è sempre difficile, ma così, dividiamo i nostri studenti tra ricchi e poveri. Ma non tutta la vita, ricchi e poveri, 7,40 minuti, Crystal Radio, good morning Milano, 331-78-53555, il monitor vi dico è ancora spento, quindi il numero lo so a memoria, vedete voi, però li vedo un whatsapp che arriva, quindi scrivete pure perché quelli riesco a vederli. Allora abbiamo parlato di buche, nei giorni scorsi, dal Corriere della Sera Milano, arriva un aggiornamento, buche nelle strade a Milano, il comune ne ripara 260, sono tantissime ragazzi, 260 sono tantissime, ma resta l'emergenza ovviamente, squadre rinforzate, e anche il sindaco fa il sopralluogo, sono più di 500, come dicevamo anche nei giorni scorsi, le segnalazioni dei danni all'asfalto, giunte a Palazzo Marino dopo le piogge, entro sabato, un dossier sulle critiche, e sulle situazioni più critiche, Sala dice agli assessori, serve un piano di ripristino. Poi, qualcosa divertente, non me ne voglia, Samuele Piscina, che anzi abbiamo cercato di contattare, ma ahimè non poteva questa mattina, essere qui ai nostri microfoni, però lo ringrazio per la disponibilità, mi sarebbe piaciuto averlo qui per capire, perché insomma, su tutti i giornali è ormai inversa il suo video, dove appunto dice che c'erano dei transessuali, che sputano sangue infetto sulla polizia, riferendosi a delle situazioni in quella di Via Padova, ma la cosa divertente è che questo articolo è correlato a una foto, di una persona che misura con un metro quanto è profondo la buca, vado a vedere che la persona è Samuele Piscina. Quindi ha cercato diciamo di sviare un attimino l'attenzione dalla sua uscita non tanto felice fatta in consiglio comunale, ha un altro problema cercando appunto di dare addosso al comune per una situazione che sicuramente è abbastanza complicata anche da gestire e pericolosa, perché sappiamo appunto quanto possa portare a del pericolo una situazione del genere, vi ricordo anche, ne parlavamo l'altro ieri, come anche noi andando in giro nella città, ad esempio la nostra Viola venendo qui in redazione ha incontrato più volte grosse buche, stamattina mi dicevi, ne hai trovata una dove? Che dicevi che in zona isola, quindi ieri sera, quindi ieri sera non stamattina, ieri sera è stata a bere e quindi ok, no vabbè, proprio aperto tutto, tutto aperto. Ah con il cartello, ok, allora scusate, parla fuori onda, sa che dovrebbe venire qua a usare un microfono, ma magari è inutile, comunque in zona isola ha detto che ha trovato punto punto, ma ha segnalata, quindi con tanto di cartello, attenzione che finite all'inferno se finite dentro, ecco a voi l'ingresso dell'inferno, c'è scritto così, sopra una roba del genere, comunque no, attenzione appunto alle buche, ma notizia che leggiamo appunto da Corriere della Sera Milano, il Comune ne ripara già 260 e dentro sabato chiederà, cioè vuole creare un dossier sulla situazione critica, per capire insieme agli assessori della partita, come intervenire, perché appunto il sindaco Sala dice, serve un piano di ripristino, e quindi buon viaggio a tutti, anzi come dicono gli articoli 31, anzi che sia un bel viaggio. Un bel viaggio, articolo 31, eh, quando si va di Milano ovviamente non possiamo che non nominare gli articoli 31, ma andiamo avanti con notizie, perché maestà, il popolo ha fame, beh, dategli, no, come era maestà, il popolo non ha il pane, dategli le brioche, no, così era la famosa frase attribuita a Maria Antonietta, che poi in realtà si è scoperto, non è stata letta lei, ma comunque fa niente, beh, sembra un po' questo, la notizia che andiamo a leggere, perché pezzi di plastica nei panini, torniamo su questo tema, pezzi di plastica nei panini, da mercoledì Milano Ristorazione serve Grissini, ecco abbiamo risolto il problema, vedete, al posto del pane nelle mezze scolastiche, subito è venuto in mente quella scena lì, cioè veramente, sarà così, no, guardi, signor Milano Ristorazione, abbiamo un problema, nel pane c'è la plastica, bene, serviamo Grissini e Cracker, ottimo, abbiamo risolto il problema, ma non siamo andati a capire cosa cavolo è successo nella catena di montaggio, o nella catena di approvvigionamento, no, ma in realtà non è vero, poi, se andiamo a leggere l'articolo, anzi, Milano Ristorazione sta cercando di capire cosa è successo nella catena di approvvigionamento e come mai, queste due, tre volte, è successo questo tema, sta di fatto che appunto, la decisione di servire Grissini al posto del pane, dopo i corpi estranei, trovati per due volte, a distanza di una settimana, per i nidi non è ancora stata trovata per una soluzione, effettivamente non mi ci vedo, bambini di due anni che si infilano Grissini in ogni orifizio, insomma non mi sembra il massimo per poterli portare a casa sani e salvi, ovviamente, comunque Grissini al posto del pane per i bambini delle scuole milanesi, e cracker per gli anziani, ecco vedete, perché anche nell'RSA, alcune RSA appunto sono gestite da Milano Ristorazione, invece agli anziani danno i cracker, perché, e anche per esempio gli ospiti di casa Iannacci, tutto questo dopo essersi ritrovata costretta a ritirare una partita di pane da una scuola, a causa del ritrovamento di un corpo estraneo, questo è quello che è successo appunto a Milano Ristorazione, che ha risposto in maniera appunto, così quasi Maria Antonettiana, dicendo, maestà, il popolo non ha il pane, dategli le brioche, il popolo trova plastica nel panino, dategli i Crissini, però mi sembra, devo dire, soluzione pratica, che funziona bene, adesso vedremo nei prossimi giorni, come verrà gestita invece questa situazione, negli asili nido, perché, ovviamente appunto, niente Crissini o cracker, leggo appunto da Repubblica, per i bimbi dei nidi, l'azienda è al lavoro per individuare un prodotto idoneo alla loro età, dategli del latte, mi viene da dire, a questo punto tanto, vabbè, molti sono ancora nella latte a vendere, un po' più di latte, via, un po' di latte, latte più, quello che si diceva, di stalle i Crissini, perché no, quello meglio di no, quello meglio di no, che già insomma, poi questi bambini, comunque, niente, questa è la situazione a Milano, con Milano Ristorazione, che ha trovato, mi sembra, un'ottima soluzione, per andare avanti, poi ripeto, andiamo a cercare poi di capire, cosa è successo nella filiera, perché insomma, non è normale trovare dei pezzi di plastica nel vostro cibo, com'è che era mettete dei fiori nei vostri cannoni, no, mettete della plastica nei vostri panini. You make me feel, Sylvester, alle 7.53 minuti, non abbassate la guardia, non abbassate il ritmo, anzi, continuate a ballare, perché è una piccola sequenza sequenziale, quella che vi sta introducendo in questo momento, il vostro Fabio Ranfi, qui su Crystal Radio, a Good Morning Milano, perché stiamo per andare in pausa, ma non prima di aver continuato, ad ancheggiare e a ballare, sulle note di Very Cool, con Bonnie Ham. Inks need you tonight, e non abbiamo bisogno solo questa sera, ma sempre abbiamo bisogno invece della nostra Tamara Malleo, che ci dà le indicazioni precise, puntuali e anche bel, che è di contenuto anche, cioè non è che ci sia solo un atelier, un atelier, in riguardo al mondo del teatro, e a farla diventare un'abitudine per noi. Buongiorno Tamara. Buongiorno Fabio, buongiorno agli ascoltatori e le ascoltatrici di Crystal Radio, di Good Morning Milano, e allora partiamo subito, due appuntamenti, che sono uno teatrale e uno letterario, ma che in qualche modo aprono, perché sappiamo che il teatro apre le finestre, quindi il primo appuntamento in una zona di cui non ho ancora parlato, che si chiama Zona Indipendente Artistica, ed è un luogo fondato nel 2023, quindi proprio da pochissimo, da un gruppo di attori, attrici, registe, registi, tra cui c'è Irene Serini, che è un'attrice che io seguo da tanto tempo, e che ultimamente si è impegnata in un lavoro su Mario Mieli, che è un personaggio poco conosciuto. Questo spazio per la dramaturgia indipendente accoglie, nel fine settimana, quindi sabato 9, no scusatemi, sì, no, accoglie, scusatemi, accoglie degli spettacoli che portano, diciamo così, testi indipendenti, e che portano soprattutto autrici, autori indipendenti, quindi secondo me è uno spazio da visitare, si trova, perché ti piace tanto, in zona, via le da Cermenate, quindi metropolitana verde, abbiate grasso, quindi facilmente raggiungibili anche dai mezzi, gli spettacoli sono quasi sempre il fine settimana, quindi sabato e domenica, di solito ad orari molto accessibili, quindi 19, 30, 20, quindi si può raggiungere facilmente, quindi gli appuntamenti li potete trovare sul loro sito, zona indipendente artistica, vi consiglio di visitarlo, perché è veramente uno spazio indipendente, zona indipendente artistica, ok, allora invece l'altro appuntamento da non perdere, secondo me è questo fine settimana, e Book Pride, perché Book Pride si apre venerdì, quindi domani, e si chiuderà domenica, vi dico subito precisamente lo spazio, perché io ogni volta poi mi, Super Studio Maxi Milano, inviamo un cucco, lì ti dita male, perché c'era il Super Studio, poi hai creato il Super Studio Più, poi hai creato il Super Studio Più Maxi, è come quando fai scudo e dici, però vuole un large, medium, non si capisce più, quindi no, ti capisco perché non ti concedo, Super Studio Maxi, Super Studio Maxi, esatto a Milano, in via Moncucco, si trova in zona Famagosta, quindi, e il Book Pride è una fiera, quindi è una fiera di editori indipendenti, ci sono gli editori, però ci sono anche le libri indipendenti, ci sono autori e autrici indipendenti, che propongono il loro lavoro, il loro percorso, ci sono una serie di incontri, sia per bambini, bambine, ragazzi, ragazze, c'è tutta una zona appunto per la fascia di, dai 0 anni ai 18, e poi c'è tutta una fascia, chiaramente, rivolta agli adulti, però ci sono veramente tantissimi incontri, quest'anno, come novità, hanno portato, da Tome, che si occupa, che è un famosissimo, giocatore di pallacanestro, che io non conoscevo, perché non conosco la pallacanestro, ma famosissimo, che si, quest'anno ha lasciato il basket, e si sta dedicando, diciamo così, ad altre attività, lui è un lettore onnivoro, quindi hanno consegnato a lui tutta la parte dello sport, quindi c'è tutta una parte dedicata agli incontri con lo sport, ma c'è anche una parte dedicata agli incontri con cantanti, per esempio c'è un incontro domani, no scusatemi, sabato con la rappresentante di lista, per esempio, che parla degli autori, che l'hanno, degli autori, delle autrici, che l'hanno influenzata, hanno influenzato lei e lui, il duo della rappresentante di lista, e veramente ci sono incontri di ogni genere, c'è anche la possibilità di conoscere autori e autrici, appunto indipendenti, case editrici indipendenti, c'è anche una nuova case editrice che debutta questa settimana sul mercato editoriale, Kibbutz, quindi da conoscere, da scoprire, Book Pride, trovate tutte le informazioni sul sito, devo dire che secondo me è un evento che ci può portare a scoprire e conoscere. Quando inizia? Ricordiamo bene le date? Venerdì 8, scusatemi, venerdì 8, fino a domenica 10. Ok, perfetto. Book Pride, abbiamo un cucco super studio maxi. non sbagliare. Super studio maxi. Va bene, dai. Tamara, grazie allora. Grazie a voi. Grazie anche perché ormai stiamo spaziando, non siamo solo sul teatro. ma il teatro ci porta sempre insomma a conoscere spazi e luoghi perché il teatro apre finestre. E allora grazie per averci aperto le finestre e per aver fatto entrare questa ventata d'aria fresca nelle nostre vite. Grazie, buona giornata e buona settimana. Anche a te Tamara, buon weekend e ci vediamo a teatro allora. A presto Tamara Malleo e andiamo avanti con la musica. Harry Styles con Satellite, 8 e 13 minuti, arrivano i nostri ospiti e fra poco qui con noi Deborah Villa. Harry Styles, Satellite, 8 e 16 minuti, Crystal Radio, Good Morning Milano. Notizia che leggiamo dal Repubblica Milano. Dal Tiero Spinelli al Nobel Narges Mohamadi. Quattro nuovi giusti nel giardino che onora chi lotta per la libertà. Ebbene sì, perché è stata la giornata dei giusti nel mondo, quella di ieri, giovedì, mercoledì, 4 e 6 marzo e sono state svelate le nuove targhe al Giardino dei Giusti di Milano. Altri sono stati quelle, le targhe di Vera Vigiani Jarac, delle madri di Plaza De Maio e Yuri Dimitrev, storico delle vittime dello stalinismo. Le loro targhe appunto tra quelle svelate al Montestella, così leggiamo la Repubblica Milano. In tempi di guerra come questi bisogna rifarsi ai migliori esempi dell'umanità. Queste le parole di Gabriele Nissim, presidente della Fondazione Garivo, che ancora una volta dice i giusti sono chiamati a salvare l'umanità. Noi tutti, nella nostra quotidianità, possiamo fare il nostro contributo per porre un argine all'odio e costruire un mondo migliore. Importante la giornata dei giusti è importante per Milano perché il Giardino dei Giusti di Milano è stato il primo giardino dei giusti nel mondo e anzi sto esempio poi per tanti giardini dei giusti che sono stati aperti nel mondo e nelle altre nazioni. Chi sono i giusti delle nazioni? Sono coloro che in un momento di genocidio o di grande guerra si sono schierati dalla parte di quelli che avevano bisogno di aiuto e quindi nascono ovviamente con la Shoah durante la seconda guerra mondiale ma poi ritroviamo i giusti anche nei vari genocidi della Rwanda e poi ci sono i giusti per l'Armenia i giusti e ogni anno ahimè perché l'essere umano non impara mai dai propri errori ci sono giusti che si vanno ad aggiungere a questa lista diciamo che in un momento in cui non si ha speranza verso l'essere umano quando succedono certe immani tragedie i giusti danno invece ancora speranza perché insomma qualcuno ha saputo mettersi e schierarsi dalla parte appunto giusta o meglio potremmo anche forse concludere con un c'è chi dice no ecco anche questo potremmo dire comunque se vi capita al Montestella fatevi un giro anzi anche se non vi capita andateci apposta andate al Montestella c'è il giardino dei giusti è un bellissimo posto dove riflettere dove capire e dove avvicinarsi a delle storie che spero possano essere anche diciamo possano influenzare in maniera positiva la nostra vita cromacose fiamma negli occhi fiamma negli occhi alle 8 e 20 minuti come le fiamme che mi sono venute nei miei occhi quando ho visto entrare la nostra ospite di oggi Deborah Villa buongiorno ciao buongiorno Fabio buongiorno Milano ma insomma fiamme negli occhi spero di no non è proprio di buon auspicio si è accesa la fiamma metaforicamente metaforicamente sì sì non era una congiuntivite latente anche perché credo che su congiuntivite no non puoi intervenire invece su esaurimenti globali esaurimenti sono abbastanza esperta ce la posso fare perché diciamo questo perché sei in scena proprio in questi giorni e questa sera lo sarai a Legnano con il tuo spettacolo Tilt giusto? esaurimento globale globale ok siamo tutti esauriti tutti esauriti beh insomma ma il comune è mezzo gaudo direi facendo così insomma ci pesa di meno dividendoci direi assolutamente sei stata in scena a Milano la scorsa settimana più o meno come è andata? bene bene insomma Milano è proprio casa mia tra l'altro Lirico è un teatro accoglientissimo Roberta Frezzato Daniele Sabbioni che sono i responsabili direttrici responsabili veramente sono persone stupende stupende infatti sono molto contenta bene bene e chi per caso avesse fatto questo grandissimo peccato di essersi perso questo spettacolo ecco questa sera invece Legnano giusto? sold out c'è ancora qualche posto c'è? no no qualche posto c'è qualche posto c'è che qui c'è bisogno è uno spettacolo interessante quello di Tilt perché tu inizi con una sorta di gruppo di mutuo aiuto in un certo senso mi dicevi così no? cosa viene fuori da quel momento? beh tanta roba bella cioè vengono tutti fuori gli esaurimenti delle persone tutto quello che li esaurisce ti dico solo quello che è uscito fuori la prima sera a Milano ho detto ditemi forza cosa è che vi esaurisce? una signora ha detto grattugiare il parmigiano e la madonna signora quanto ne grattugiare diciamo che se non ne grattugiare il parmigiano la strada è lunga la strada è lunghissima è lunghissima mi aspettavo qualcuno che ha già il parcheggio qualcosa del genere per esempio per esempio certo un grande classico un classicismo un grande classico mariti, mogli ecco però è interessante perché tu l'hai chiamato Tilt cioè il titolo il titolo è Tilt esaurimento globale esatto quindi se io ti sgigotto mi va in Tilt come il flipper assolutamente andrò in Tilt anche durante lo spettacolo ah vedi e poi faremo un viaggio all'interno del mio cervello che è un viaggio che dura un minuto e mezzo cioè c'è poco da vedere quindi anche dei caschetti delle cinture che entra insomma credo sia un viaggio pericoloso pericolosissimo però sicuramente non ci si annoia ecco no di sicuro no è un bello spettacolo divertente adesso poi non è che voglio tirare acqua al mio mulino però insomma non è che posso dire è brutto se no l'avrei rifatto beh lì un applauso partiva cioè se dicevi guardate venite allo spettacolo è bruttissimo esatto però fa ridere no no invece è pure bello è pure carino fa ridere fa ridere e quindi insomma cosa c'è di meglio contro il nostro esaurimento globale che faccia una bella risata questa sera appunto al teatro di Legnano allora adesso Deborah io ti sequestro ancora per un paio di canzoni e dopo ci ritriamo qui perché entriamo bene nello specifico ci racconti bene anche come è nata la genesi di questo di questo spettacolo che appunto ha una genesi e poi vedi ride c'è questo che mi è e questa sarà la domanda cioè come si fa a ridere su questa cosa ce lo insegna Deborah Villa ciao 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 Marshmello grazie mille per questo capolavoro assoluto ma siamo qui invece con Deborah Villa che invece di capolavori ci deve raccontare perché stiamo parlando del suo spettacolo Tilt esaurimento globale questa sera in scena in quelle di Legnano non è più una prerogativa solo di alcuni siamo tutti esauriti siamo tutti esauriti e questa è una cosa che dicono gli scienziati non è che lo dico io io lo rilevo da come si dice l'ho letto su Focus esatto no io l'ho letto su TikTok l'ho letto su TikTok esatto no però è vero siamo tutti messi male ragazzi perché vabbè ma perché ci prendono in giro dall'alto le difficoltà dal basso e in mezzo ci siamo noi e non dico dove vanno a finire le fregature ecco però insomma ce lo possiamo immaginare detto questo però io faccio di necessità virtù sono una comica vedo sempre il lato divertente quantomeno è una bellissima via di uscita insomma la risata no cioè ridere delle delle magagne infatti come si può ridere di questa cosa si può si può assolutamente se non avessi avuto questa dote di poter ridere delle mie magagne credo che mi sarei suicidata a 15 anni cioè sono di più altello sono quello che sono che non nasco modella in un mondo spietato dove per essere donna la bellezza è tutto invece ho tirato fuori un po' di cazzim come direbbero a Napoli un po' di grinta mi piace che tra le note dolenti c'è il nascere a Pioltello ebbè nascere a Pioltello è tanta roba lo nomino anche nello spettacolo io non passo spettacolo senza nominare Pioltello ah vedi vedi è il mio paese è il mio bronzo rivendichiamo una cosa altro che Gali che dice sempre Baggio bello mettiti in coda Gali che qua c'è Pioltello che veramente Pioltello tira fuori il coltello si diceva una volta ah capito Pioltello ti fa coltello questa non la sapevo sapevo Barona Padrona sapevo della Barona ma non sapevo qua di Pioltello diciamo appunto che bisogna ridere per riuscire a uscirne da questo pazzia globale in realtà in cui siamo dentro non siamo solo noi matti non so come dire siamo proprio inseriti dentro però diciamo appunto come nasce la genesi di questo serie a serie per un secondo allora dopo il secondo lockdown che eravamo tutti chiusi in casa io ho anche la fortuna di vivere in super provincia vivo a Gessate quindi anche con un giardinetto vedevo i campi quindi molto fortunata rispetto a tante persone costrette in casa però sono andata un po' giù di testa come tutti perché non vedevo più il futuro insomma eravamo dentro e non si sapeva che cosa sarebbe stato di noi ho detto aiuto e lì insomma ho un po' iniziato ad andare in down diciamo una deriva depressiva non voglio esagerare perché ci sono persone che hanno problemi molto più seri di questi però tra l'altro quando poi hanno riaperto c'è stata finalmente la possibilità di tornare sul palco mi sono domandata ma io vado sul palco a fare la scema con la gente che sta male ha perso cari attività lavoro liberi tutti ha un po' poi sconvolto chi magari ho detto io vado lì e li faccio ridere allora ho scoperto però anzi ho riscoperto le capacità taumaturgiche curative della risata perché anche questo è un dato di fatto oggettivo quindi fa bene veramente ai polmoni alla circolazione al cuore al metabolismo insomma sul metabolismo avrei da ridire però insomma ecco diciamo su tutto il resto sei informissimo vabbè ho perso tipo 20 chili ecco ero arrivata a 80 e quindi insomma per dire ho detto beh però insomma quello che faccio non è proprio da sciocchi e poi ho capito che non ero l'unica che c'era bisogno tanti mi chiedevano meno male mi hai fatto passare un'ora di capito in relax mi hai fatto dimenticare i miei guai insomma ho capito che era anche umanamente importante questa cosa e da lì mi sono interrogata ma perché siamo arrivati a sto punto ecco e ce n'è e venite a teatro per scoprire esatto l'interessante è che appunto c'è stazione abbastanza lunga quindi questo lunga lunga sì beh nel frattempo ho fatto quasi due anni di laboratorio sì ho fatto proprio un laboratorio che si chiamava terapia di gruppo ecco ecco funzionale proprio al mio star bene ma allo star bene del pubblico tanto che a un certo punto c'era un manipolo di artisti un'armata brancaleone che mi seguiva e sono Luce Pellicani Max Samaritani Amedeo Abate Yuri Primavera Andrea Nani e praticamente però a un certo punto facevano salire anche il pubblico sul paico quindi noi li facevamo divertire poi chi voleva guarda ti è uscito Fabio tu non hai idea della follia dilagante ma infatti le persone riescono ancora a stupirti dopo questi anni che le incontri sì assolutamente dai dacci qualche mi è rimasto nel cuore Renato devo dire che quella che è in sbattimento perché deve grattugiare il parmigiano già quella quella poverina insomma siamo tutti con lei insomma solidarietà stiamo facendo partire un fondo un crowdfunding un sms solidale per il parmigiano per una grattugia più grande no però questo Renato che è una persona veramente che ha girato il mondo è un poeta inconsapevole parla un gramlo di lingue che mi sembra cattivic ora io non so se tu te lo ricordi quello che non metteva le finali e parla così e dice le cose sale sul palco e dice allora adesso ti dico le mie le mie allora sai che sai perché il caffè non parla e tu dici perché perché non sia ancora espresso brava io voglio morire uno così lo devi tenere lì io voglio morire ma infatti c'era sempre Renato a grande richiesta anzi Renato ti vogliamo qua assolutamente vogliamo Renato perché un personaggio così non può non passare da Good Morning Milano devo dire e quindi sì interessante appunto questa idea anche della terapia di gruppo che avevi fatto appunto questo laboratorio molto molto bello è servita a noi comici ma anche tanto al pubblico e poi veramente salivano a raccontarti aneddoti barzellette poesie canzoni c'è chi più ne ha più ne metta e devo dire che è stato proprio un bel momento perché non c'era più il palco e la platea eravamo cioè il palco era solamente uno spazio dove poter salire ma era altro che tirata giù la quarta parete insomma abbiamo distrutto proprio l'edificio praticamente l'opposto di quello che ti ha fatto un po' più conoscere al grande pubblico invece perché tu nasci dalla televisione tra parentesi con una non nasci scusate ti fai conoscere dal grande pubblico con la televisione tra parentesi in una serie che era il massimo della quarta parete c'era proprio lì c'era solo quella c'era solo quella c'era proprio una parete un video una macchinetta del caffè che ci separavano sì sì è stato un bel momento Camera Cafè devo dire che è stata oddio mandano ancora le repliche oggi ah sì sì no a qualsiasi ore di giorno della notte sono 21 anni eh mamma come sono vecchio anche io eh beh ragazzi sono 21 anni fa 21 anni fa la prima puntata nel 2003 wow il teatro però rimane sempre qualcosa di diverso perché lo vedo tutti quelli che di voi passano di qua che hanno fatto esperienze televisive grandi o piccole che siano però dicono il teatro è tutta un'altra cosa che cos'è che vi dà ma è proprio la condivisione io sono analogica non sono tecnologica sono tecnolesa ah sei tecnolesa sono tanti qua tecnolesi diciamo in realtà cioè a far teatro non è che vai in giro per strada e ti riconosco e ti salutano a far tv basta fare una mezza stupidaggina e il giorno dopo tutti ti salutano certo non è quello quindi che si ricerca spero no sinceramente no nel senso che a me più che famosa ma guarda non mi è mai interessato più di tanto non ti dico che non mi abbia fatto piacere perché comunque ti riconoscono nonostante ti chiamano tutti i patti tutti i patti ancora oggi io mi giro e gli saluto ma pensano che io mi chiami Patrizia di Imporzano alcuni quindi io non li contraddico ho scoperto in questo momento che aveva un nome e un cognome quindi la patti sì Patrizia di Imporzano sempre chiamata patti e basta però ti dico ma mi ha dato veramente tantissimo mi sono divertita tantissimo è stato anche un periodo di sofferenze perché non sembra ma sembravamo veramente 12 ore vestiti da personaggi vai un po' fuori di testa però a parte questo io la televisione mi piace farla assolutamente ma live 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 sei lì tu con il pubblico cioè è un rapporto d'amicizia che estauri ogni volta insomma quindi io non lo so non lo cambierei veramente per niente al mondo infatti anche un po' di anni fa ho fatto proprio questa scelta e poi è arrivato il covid sempre scelta nel momento giusto esatto ma invece adesso sta andando molto questa roba della stand up comedy sì come la vedi io la vedo benissimo tu ci trovi dentro io faccio stand up nel senso che poi io la chiamo monologo però anche Paolo Rossi che ha portato Lenny Bruce in Italia un po' quello stile un po' underground un po' bohemian un po' dallo calaccio diciamo è un po' quello con cui siamo nati tutti se hai un contenuto da condividere se è monologhista quello fai non è che però diciamo che il linguaggio utilizzato dai giovani che adesso si approcciano sul palco a me piace perché mi piace la crudezza mi piace anche la spontaneità mi piace anche un po' la cattiveria e tutto non mi piace la gratuità quando fanno la battuta fino a se stessa volgare per volgare o truce perché truce ma fine a se stessa quindi un arzigogolo senza un contenuto sotto a me non dà nulla ma è un parere personale sono però felice che ci sia un risciacquo diciamo così una nuova generazione che preme per emergere questo è bello ti piace la cattiveria ti piace così però in realtà tutti i tuoi spettacoli non si per niente ma un po' sì nel senso che ma non è una cattiveria contro le persone è una cattiveria contro i difetti delle persone umani sì sì umani non siamo al body shaming cosa che ho io per prima hai capito cioè per prima cosa prendo in giro me stessa poi dopodiché datemi un attimo di vanto per gli ospiti che portiamo qui perché diciamo che hanno citato Lenny Bruce sia De Boravilla che Cocchi Ponzoni sto sedendo sulla sede dove sei seduto Cocchi però non te la possiamo dare no ma mannaggia neanche a pagare dopo ci mettiamo d'accordo faccio un'asta comunque insomma capite che anche questo però il fatto di sapere di conoscere quello che c'è stato prima di voi quello che ha creato le basi di questo tipo di comicità credo sia fondamentale molti forse adesso lo vedo io dico lo vediamo anche nella musica così iniziano punto senza avere però delle basi si riesce comunque ad arrivare guarda allora alcuni sono li vedi appassionati allora a parte c'è sempre una commissione di tanti elementi allora la prima cosa devi fare ridere perché anche quelli che dicono devo farti pensare va bene anche io ti faccio pensare ma ti faccio anche ridere se no non mi chiamo comica mi chiamo attore mi chiamo attrice insomma chiamo Piero Angelo esatto detto questo due devi avere originalità devi avere talento devi avere anche un po' la dedizione e la voglia di provare sempre pezzi nuovi è anche una costruzione che va fatta nel tempo infatti esistono tantissimi locali dove fanno gli open mic piuttosto che i lab piuttosto che chiamali come vuoi dove questi ragazzi e ragazze vanno e si buttano a cimentare cioè si cimentano con i loro pezzi nuovi e questo l'abbiamo fatto anche noi insomma perché c'era lo scaldasole eravamo alla Barona lo scaldasole lo scaldasole si 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 ecco io rodo il gruppo dello scaldasole da dove siamo usciti oltre a me Geppi Cucciari Katia e Valeria i pali e dispari Gianmarco Pozzoli Gianluca De Angelis che ne so Walter Leonardi insomma un sacco di gente il scaldasole è stato veramente un laboratorio fondamentale per la nostra città assolutamente è stato proprio un bellissimo momento e anche noi facevamo la stessa cosa che facevano loro poi il gusto le cose che portavamo sono diverse ma viva la diversità chiaro ma se tutti facciamo stand up se tutti copiamo gli americani anche lì ecco ci sono molti che sono tanto esterofili ma le tue radici il tuo know how è qui tu puoi prendere la tecnica se vuoi dall'America ma il contenuto deve essere sincero cioè deve essere tuo ti deve appartenere capito cosa voglio poi se sei uno che ha quel filone intrinseco e va bene così tipo Luttazzi era fatto per quella roba lì fermo restando che insomma ha preso anche a mani basse parecchie battute ecco cosa che noi ancora non sapevamo volevo capire se l'avessi ecco sì perché vogliamo un punto di Luttazzi poi c'è scoperto poi questa cosa ha esagerato diciamo traccattava su un po' ma non c'era ancora internet non era così quindi insomma aveva il satellite a casa sicuramente mandava anche là a vedersi gli spettacoli ma sicuramente è uno che però quella roba lì era proprio sua la sapeva fare come dire sì 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 dopodiché le radici come dicevi il territorio sappi che diciamo una cosa che è successa poco fa Debo è arrivata un po' prima è andata a prendersi un caffè qua vicino sappi che ti chiederemo i diritti per quegli spunti che ti avrà dato sicuramente il bar in cui sei andata a prendere il caffè ah ok qua della zona sappiamo già che ti avrà dato grandi spunti elementi diciamo sappiamo già che ti avrà dato grandi elementi quanto è importante e come fare a trovare gli elementi perché ad un punto io vado magari in un bar un po' così quello che al massimo riesco riesco incazzato perché magari il caffè non era il miglior caffè della giornata invece tu esci ricca di informazioni che poi magari molto probabilmente porteranno tu puoi riuscire dicendo buono questo caffè meglio dell'acquaraggia per esempio se lo paragoni a qualcosa di peggio già acquista una skill capito ragazzi questa è una lezione che vi ha dato una lezione di vita questa è lesson one per diventa comico in dieci in dieci in dieci lezioni con Deborah Villa no ecco si può insegnare la comicità ma si può sì ci sono due accademie qua in Italia sicuramente adesso per esempio mi sto leggendo un libro di oddio per re non so se si pronuncia così un americano che ha lavorato per Bob Hop piuttosto che che me l'ha consigliato il mio amico Nando Timoteo che è un altro comico molto bravo dove lui dice sì tu devi prendere un po' da tutto devi osservare devi scrivere poi diventa anche un lavoro proprio di scrittura e di come di disciplina ecco che io per esempio non ho assolutamente però si può imparare tutto a scrivere e anche a recitare se poi metti insieme le due cose però devi avere voglia e deve essere anche un po' il tuo cioè non potrei mai diventare un cardiochirurgo vascolare nessuno perché poi sembra che fare il comico sia una roba alla portata di tutti sì e anche no però ecco insomma dipende un po' dalle qualità che hai tu ma allora no cardiovascolare forse no un po' psicologa di tutti per almeno un'oretta e mezza diciamo lo puoi diventare sul palco ridendo e scherzando ridendo e scherzando allora ricordaci appunto siamo in chiusura Deborah ricordaci gli appuntamenti di questa sera e poi comunque anche nei prossimi giorni noi ricordiamo siamo in DAB sotto la Lombardia ma comunque siamo anche sulla rete e quindi magari ci stai ascoltando anche da fuori regione e ci sono degli appuntamenti giusto? allora sì guarda gli ultimi tre sono praticamente Legnano domani poi c'è Mestre l'11 aprile il 12 aprile invece a Trieste poi da ottobre si ricomincia ok la prima tranche poi basta si chiude sono in giro con altri spettacoli quelli un po' più leggeri non da teatro diciamo cioè cosa che fai fai del burlesco cosa fai non ho capito no volevo capire in che senso fai degli spettacoli pirotecnici no 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 però faccio un patchwork è un jukebox praticamente ho raccolto i pezzi diciamo più cavalli di battaglia dei miei spettacoli precedenti faccio scegliere al pubblico gli dico i titoli chiaramente raccontati in maniera sempre divertente loro scelgono la loro scaletta quindi ogni sera lo spettacolo è diverso quindi proprio a richiesta a richiesta altro che a cappello come si diceva una volta che no questa richiesta è molto divertente interessante tutti i pezzi tuoi non come faceva Luttazzi no assolutamente no assolutamente no magari scritti con coautori questo spettacolo l'ho scritto con Carlo Giuseppe Gabardini ah ok ok altro che arriva da da Camera Caffè da Camera Caffè con te infatti però avete già avuto che fare o vi siete conosciuti con Paolo Rossi no ci siamo conosciuti in una tournée con Paolo Rossi ok com'è una tournée con Paolo Rossi guarda è veramente uno dei più bravi attori che io abbia mai visto è switcha dal comico al drammatico in un secondo è gigante sul palco Paolo è veramente gigante ecco e allora direi che con questo possiamo chiudere il nostro appuntamento di oggi con Deborah Villa grazie mille Deborah grazie a te Fabio grazie questa sera non perdetevi lo spettacolo a Legnano domani domani l'8 marzo secondo me abbiamo già detto tipo stasera quattro volte in realtà è domani sera ah ho sbagliato domani 8 marzo 8 marzo mamma mia una cosa dovevo fare una cosa dovevo fare e sono venuta a farla male vabbè è così che va comunque no domani sera a Legnano lo spettacolo di Deborah Villa comunque cercatela ci sono i social c'ho il link in bio c'ho il link in bio ragazzi ho scoperto la cosa il link in bio è bellissimo è biodegradabile è così infatti va bene comunque c'è anche i social cosa volete di più c'è anche il tiktok c'ho anche il tiktok no vabbè allora sei avanti anni luce Deborah sei avanti anni luce Deborah Villa domani sera a Legnano con il suo spettacolo Tilt esaurimento globale grazie mille Deborah andiamo con un e beh qui un pezzettone di quelli Michael Jackson con Thriller 8 e 54 minuti siamo arrivati alla fine di questa puntata di Good Morning Milano con tanti ospiti e tante belle cose che vi abbiamo raccontato quest'oggi eh sì perché Deborah Villa ci ha raccontato come nasce il suo spettacolo Tilt esaurimento globale che potete andare a vedere domani sera in quella di Legnano proprio lì al teatro di Legnano con Deborah Villa e dopo di noi senti questa con Ambrogio Curti e la sua grandissima voce e la grandissima capacità che ha nel raccontarci le storie che ci sono dietro le grandi canzoni che hanno fatto la storia della musica e come la messa della domenica prima di chiudere le comunicazioni di servizio se voi ci andavate a messa che poi dicevano ok adesso prima di andare via comunicazioni oggi all'oratorio ecco no allora ricordatevi che noi abbiamo il nostro sito goodmorning.milano.it su cui potete riascoltare rivedere tutto quello che succede qui in studio e fa pochissimo appunto anche ritrovare l'intervista a Deborah Villa e il contributo di oggi di Tamara Malleo per l'abitudine del teatro in diretta invece domani mattina dalle 7 alle 9 su Crystal Radio su Milano All News e ovunque voi vogliate grazie alla app di Crystal Radio questo è Good Morning Milano buona giornata Milano buona giornata a tutti quanti ciao a tutti